Benvenuti, cari follower. Quindi, un avviso molto importante e urgente per tutti gli italiani, a partire da domani, sabato 1 luglio 2023. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che tutti supportino questo video con ammirazione. Non voglio no iscrizione al canale, nessun commento o altro, solo supporta questo video con ammirazione, e inoltre non essere avaro con le informazioni e condividi il video con i tuoi amici e parenti, per aiutarli a evitare il maltempo e così che non ci sono danni o perdite. Se il modello europeo nel suo ultimo aggiornamento emette un avviso di primo grado per quanto riguarda il forte temporale che ha colpito le regioni settentrionali e centrali per l'Italia nella notte di venerdì, è probabile che questo temporale continui ad interessare l'Italia anche domani, sabato 1 luglio 2023, ma questa volta si attiverà all'improvviso e in aree separate del centro, nord e sud, ed è molto difficile prevedere le aree interessate nello specifico e le aree interessate dal rischio di allagamento, e per questo chiediamo a tutti i cittadini di usare la massima prudenza domani, sabato, in particolare i residenti delle regioni centrali, così come i residenti del nord est e di alcune zone del sud, perché come ho detto, questi temporali si attiveranno all'improvviso, ed è molto difficile determinare le zone interessate nello specifico, e questi temporali possono portare ad allagamenti e grandinate, che possono causare danni materiali, e quindi consigliamo a tutti di fare attenzione attenzione, e ogni altra importante novità che vi forniremo in seguito.